Da Chateau Dax ci sono i saldi, design italiano e alta qualità artigianale con sconti fino al 50% in 36 con moderate dal 2011. Ad esempio il divano a tre posti Hector rivestito in pelle con due postazioni relax da 2000 a soli 1000 euro. Anche la cucina Como, laccata bianca lucida e completa di tutti gli elettrodomestici. Invece di 6200 costa solo 3750 euro. Camera completa summer, corrette materasse ortopedici e piano alzabile, comodini, comò e armadio. Tutti bianchi e lucidi anziché 6200 costa solo 3990 euro. E nei negozi Chateau Dax trovate anche la mia casa. Ti aspetto su Chateau Dax.it. Goriti la vita, scegli i saldi Chateau Dax.